Chi è Boiana? La signorina, signora Boiana Signore! Quasi signora Io sono Gianni, faccio un medicina e sono stato ingerciato dal signor Francesco che immagino sia un medicino e mi ha commissionato una serenata Allora, questa è una canzone famosissima del grande Lorenzo Giovenozzi che si intitola A te Allora, che sei l'amico al mondo dà ragione come è incluso quando ti guardi dopo un giorno che mi ha trovato a fare tu chiusi con le spalle mi riempia da tuo difendere con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi a te che sei l'amico al mondo che mi hai piuttosto con te a te io canto una canzone che è per loro anche che riprendi nel senso conflire quello che mi ha trovato con i disillusi che la mia cina è quella che mi ha trovato A te che sei il mio grande amore, grande amore, grande A te che hai preso la mia vita e mi faccio conto di più A te che hai dato un senso al tempo senza risultare A te che sei il mio grande amore, grande amore A te che mi dico che ho vista piangere la mia mano Fagile che potevo uccidere e stringere te E poi ti ho visto con la forza di un aero A te che mi hai insegnato i sogni, l'avventura A te che credi nel coraggio e anche nell'amore A te che sei la miglior cosa che mi sia successa A te che cambio in tutti i giorni, ma resti sempre la stessa A te che sei, semplicemente sei Sostanza dei giorni e sostanza dei sogni e A te che sei, semplicemente sei Sostanza dei sogni e sostanza dei sogni e sostanza dei giorni A te che sei, semplicemente sei Sostanza dei giorni e sostanza dei sogni e sostanza dei sogni e sostanza dei sogni e sostanza dei sensi e giorni Grazie.